benvenuti ancora una volta nel salotto buono montecatinese ovvero il gran caffè gambrinus che ricordo si trova veramente nel cuore cittadino ad appena 50 metri da piazza del popolo l'occasione che ci ha portato qui è che per tutta l'estate e tutti i giovedì sera sarà di scena un aperitivo particolare infatti nato da un'idea di giorgio panariello con l'organizzazione di walter santillo e andrea spadoni il direttore del giullare nasce il talk show dal titolo dimmi se c'ha un amico tutte le settimane un personaggio famoso sarà ospite nel salotto allestito sul palco assieme ad un amico che lo conosce veramente bene il primo appuntamento ha voluto far capire a tutti l'importanza dell'evento e ha tolto ogni dubbio con la presenza di carlo conti sentiamo adesso un piccolo stralcio della serata buonasera e benvenuti a questa che è la prima la prima puntata chiamiamola così il primo evento il primo appuntamento di senti se c'ha un amico che è una rassegna che il gambrinus ha fortemente voluto dedicata all'eccellenza toscana un po in tutti i campi quelli che sono i campi che spaziano dallo spettacolo alla cultura dalla medicina allo sport dall'editoria al giornalismo dalla televisione al cinema insomma un pochino tutto tutto quanto il format è molto semplice è un una serie di incontri attraverso le storie anche di un amico che conosce bene il personaggio che sarà qui con noi durante durante appunto questi incontri questa sera e le altre sere ogni giovedì per i mesi di giugno luglio e settembre così almeno lo presentiamo insieme il personaggio lo chiamo lo chiamo subito vorrei qui sul palco lo conosce tutti anche voi gianfranco monti eccolo gianfranco buonasera buonasera gianfranco monti non parente dell'altro monti non male meno male oppure no perché tu agganci magari invece nulla turire insomma guarda io forse ho frainteso sì cioè che tu mi hai amato e mi ha detto sì porta porta che te si porta carlo conti io no io pensavo lo portarsi te io sono solo con la smart che poi ho preso il motorino e su il motorino perché c'ho braccini colti ma non c'è una lira quindi secondo me come scusa dovevi portarlo allora carlo conti non c'è sicuramente bisogno di presentazioni ciao valter era un franzo che non ci vedevamo come stai bene allora ho sentito un applauso convinto però io oggi vorrei chiederti come nasce una trasmissione di successo perché anche la tua ultima trasmissione il wind music world è andata benissimo è stato un successo quanto avete fatto 6 milioni e mezzo milioni e 4 di spettatori è andata è andata molto bene poi tutto l'evento musicale particolare però prima permettetemi di salutare con affetto vi volevo salutare uno ad uno perché quando quando torno in toscana quando sono dalle mie parti è sempre una gioia particolare perché l'applauso il sorriso gli occhi dei toscani e comunque delle località della toscana riempiono il cuore quindi vi ringrazio ringrazio i toscani possono alzare un attimo la mano tutti coloro che sono toscano ecco allora io vi dico grazie vi faccio un applauso io perché molti di voi mi hanno no ve lo faccio io perché molti di voi mi hanno e ci hanno scoperto quando quando gli altri non sapevano neanche chi fossero i vari conti per accioni o panariello voi ci avete scoperto ci avete coccolato ci avete fatto diventare grandi quindi credo che la cosa più giusta ogni volta che mi capita di toccare il pubblico toscano è quello di ringraziarlo per questo affetto per questa energia che ci hanno dato fin fin da dalle prime trasmissioni fin da succo d'arancia datato 1985 io tra l'altro c'ho un aneddoto bellissimo a casa di carlo quello è bellissimo eravamo sdraiati stavamo guardando sul divano un sanremo finito sanremo tra l'altro quello vinse masini carlo mise su una cassetta di fratelli d'italia conti per accioni forse ancora prima è fratelli d'italia si fratelli d'italia o un succo d'arancia non pensavamo sia io che giorgio quindi eravamo sdraiati sul divano leonardo guarda uno coriccioli e l'altro l'amice arancione e nel silenzio gli fa o carlo e lui o esce andata bene di nulla perché rivederci semplicemente vent'anni prima era decisamente un'altra un altro scenario ma come mai c'è gente petta fa freddo sette spettatori teatro con sette spettatori sette la sera dopo mi ricordo ancora invece quarrata in piazza quarrata ce n'erano 7 mila ora l'intervistatore attento mi chiederà spontaneamente come mai la sera prima sette la sera dopo sette mila vai come mai la sera prima sette la sera dopo sette mila valter mi fa piacere che tu mi avevi fatto spontaneamente questa domanda 6 migliorare voto 7 perché era a pagamento 7 mila era ingresso maggio allora troppo facile ci sono più domande vertono sul libro noi che i migliori anni siccome è una raccolta di noi che ci chiedono qual è se ce ne sono qualcuno che ti rappresenta di più così al volo sicuramente ce ne sono tantissimi i primi che ti vengono in mente ma noi che per sapere se che se il nostro figlio era maschio femmina dovevamo aspettare nove mesi poetica poi merita l'applauso merita l'applauso ma ce n'abbiamo tante dopo c'è stato dopo 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 noi che il cambio della 500 si è capito eh eri terzo incomodo che sei sempre lì per quando dovevi fare certe cose che erano sul lungo il cambio carlo si è sposato come non ho capito che un anno fatti si è sposato dove è scritto lì qua la domanda allora è vero e aspetta anche un figliolo no non è vero se no poi ci vedono tutti domani ti immagini questa è la bellezza di questa no no però non a nulla no e mi chiedono infatti qua perché lo fai la canzone ma hai fatto tre cerimonie una a firenze una a roma e uno dei parenti della moglie sì mi dicono no quattro allora ma qua come quattro perché c'è anche livorno quanto era costato il matrimonio poco perché la persona viviente cioè organizza il matrimonio in base al concerto di madonna io c'avevo madonna a fare piano bar quindi nel silenzio totale di questa bella villa sulla collina c'era il concerto di madonna e suonava boom 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 c'è quindi era il piano bar perfetto aspetta quella a roma allora a roma all'hotel ilton che si trova a montemario quindi una cosa sotto sotto c'è una famosa villa dove ci fanno dei ricevimenti importanti i politici eccetera eccetera a un certo punto della cerimonia gianfranco incominciano a sparare sti fuochi d'artificio ma bellissimi bellissimi e lui chiama francesca dicendo e vedi cara guarda cosa organizzata della villa di giù c'era una delegazione ciao carlo ciao chiaramente qua siamo a ricordare i tuoi trascorsi mi sembra giusto ricordare anche la radio che ha avuto un'importanza fondamentale in quella che è stata anche la tua carriera proprio rdf 1027 certo rdf con con pierluigi che è qui che saluto che abbraccio forte ne abbiamo combinato e l'abbiamo creata in qualche modo questa meravigliosa radio che rdf e la radio è il primo amore non si scorda mai noi tutti noi io walter gianfranco ci sei per lui ci siamo conosciuti proprio lì siamo conosciuti nella radio abbiamo fatto la radio ma veramente l'abbiamo fatta quando si parla dell'inizio che la radio privata non perché era di un privato perché era privata di tutto c'era niente per questo si amava radio privata c'era un piatto un microfono e una serie di 45 giri tanto è vero che non c'era il regista ma uno faceva tutto da solo mentre gli aggrava chiacchierava per girare i 45 magari mettere in retro non a me perché non era giusto che ci guadagnassi io perché l'avete scritto voi ma che tornasse in qualche modo al pubblico e quindi l'incasso del noi che va all'ospedale pediatrico maier di firenze quindi se dovete comprarne uno di due comprate il noi che io che è un mio racconto e quindi molto molto meno interessante salotto buono di montecatini terme ovvero il caffè gambrinus con andrea spadoni direttore del giullare ed organizzatore dell'evento sì siamo molto contenti di questo evento che per noi è un veramente un orgoglio essere diciamo il giornale che organizza un una manifestazione così importante come abbiamo visto la prima giornata con carlo conti è stato già un grande successo la piazza piena il gambrinus che è un posto veramente bello e nelle prossime settimane altri grandi appuntamenti giorgio panariello viene insieme a massimiliano allegri l'allenatore del milan pazzini avremo giornalisti avremo tantissimi ospiti quindi non posso che come giornale come fondatore di questo giornale dopo quattro anni essere qua in protagonista di un evento importante per montecatini ma credo anche per la toscana non può che farmi veramente contento nel salotto buono di montecatini con carlo conti che ha tenuto quest'oggi un bellissimo tol show ci siamo divertiti in questa in questa grande caffè gambrinus con tanto un bel pubblico domande risposte e con l'opportunità anche di farti vedere in una veste più più tranquilla meno ufficiale di una trasmissione televisiva insomma un incontro diretto con il pubblico il classico tol show il salotto quasi un salotto un aperitivo fatto con gli amici di montecatini tra l'altro abbiamo visto un'ottima partecipazione di pubblico e soprattutto la tua grande umanità con le persone firmare autografi sui libri e tutto il resto è il minimo insomma il contatto diretto col pubblico è la cosa più importante il nostro mestiere non sarebbe niente senza il pubblico e tutto quello che facciamo e tutto il nostro successo l'insuccesso dipende tutto dal pubblico quindi non possiamo fare altro che ringraziarlo sempre e noi ti ringraziamo sempre grazie ciao ciao così su queste immagini di carlo conti con la redazione del giollare walter santillo gianfranco monti ci congediamo da voi un saluto da vittorio goccecchi grazie a tutti